Benvenuti a tutti ragazzi, noi siamo Magic's Real E oggi ragazzi, come avete visto Come avete visto Oggi ragazzi, quando è il terzo modo di donare il nuovo video, siamo qui E oggi ragazzi, nel secondo episodio della settimana Magica Cosa consiste se ogni giorno facciamo un video Cioè un gioco o due, dipende da come ci gira Di magia E la settimana prossima vedrete sempre di martedì Il tutorial di questi effetti che faremo oggi Passiamo al tavolo, inizia Matteo Sei pronto Matteo con le tue carte? No Quante carte sono, indovina? Sette Due, quattro, sei, sette Esatto Allora, adesso quello che dovrei fare È contare le carte Ok? Così, facendo un mazzetto E se viene un numero doppio Addizionarlo Quindi dodici, uno più due, tre Ecco Non ce la faccio più Intanto sto al telefono almeno Non ti sento Sto distretto È più piano Sennò ti sento lo stesso Ho fatto No Ho fatto Ok Ho fatto Ora Ora vai a tagliare da questo mazzo Un tot di carte E vai a posizionarli Ora io andrò a contare Le mie carte Così A caso E tu andrai a contare queste E poi andrai ad addizionare I due mazzi E se viene un numero doppio La stessa cosa Le addizioni tra di loro Cioè Il numero di carte Di queste più queste Sì Cioè Tu qua ho 17 Più 13 Lo fa No Se tu qua hai 17 1 più 7 6 1 più 7 Quanto fa? E 8 Se qua c'hai 13 1 più 3 Fa 4 4 più 8 12 Ok Ok Se mi viene un numero doppio cifo Devo sommarlo? Ok Se mi viene un numero doppio cifo Devo sommarlo? Sì Ok Ok E io vado a prendere una predizione Ce l'ho qui Quanto ti viene a te? 1 Aspetta Mi viene un numero 10 1 più 0 1 La mia predizione Wow Un asso non è 1 Eh L'asso vale 1 Non è vero L'asso vale 13 L'asso vale 1 O 13 C'è un po' cagare questo trucco Vale 11 infatti Tocca a me Yeah Matto sei tappato Mescola Dai mescola Ma se è un bel miscuglio Ora ti chiedo Prendi le carte in mano E fai due mazzetti a 10 carte Facendo 1 1 2 2 3 3 Da dove parta? Da dove ti parto? Ok Queste carte Lo metterò anche a posto C'è uno o due mazzetti Lo vuoi tenere Lo vuoi buttare Lo vuoi tenere? Ok Quindi questo Lo buttiamo Ora dammi un po' di spazio Però Stai d'accordo con me? Ok guardando questo Potrei sapere le carte Che mancano qua Adesso però io magari potrei aver sbirciato qualcosa Quindi metti le carte sotto il tavolo Così che non vedo Però questo è molto preciso Lo voglio Ora io basta che passo la mano sopra E capirò il colore della prima Non vanno su Nera La prima di torso Quella che hai proprio sopra Nera Quella sì Nera Gira Dovrebbe essere fortuna 50 e 50 Rossa Rossa Manca la prossima Due rosse Di seguito Un'altra Rossa sempre Anche questa rossa Fortuna sempre magari Due nere Prova un po' Due nere di seguito Quante carte mancano? Tre Rossa Verde No aspetta Nera L'ultima Rossa Questo è Saper riconoscere This is del gioco Vedo Man si è da palo L'ha mischiato Fa tutto Perfetto 6 minuti 6 minuti Più 3 video Buttati Ti ho messo gli anni Per fare questo gioco Passiamo al tutorial No tutorial Stai in un altro video Da settimana prossima C'ha ragione Quindi ragazzi Se questo video vi piace Lascia un like Commenta Se è passato In descrizione Noi vi ringraziamo E ci vediamo Un prossimo video Bella Well No change No change No change